ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale benvenuti in questo nuovo video oggi è finalmente arrivato il momento in cui vi rivelerò questo mezzo misterioso che ho rivelato qualche giorno fa tipo un paio di giorni fa chi mi segue su instagram ha cercato in tutti i modi di indovinarlo ma non ci è riuscito le auto più gettonate sono state supra rx7 nsx suzuki cappuccino ne avete sparato tanti di quei modelli che tra l'altro c'erano anche modelli aspirati o ad esempio modelli tipo supra rx7 che non sono auto per niente rare perché è facilissimo reperirle ormai un po ovunque mentre quello che vi farò vedere oggi è un mezzo molto molto particolare avevo dato degli indizi che erano giapponese sovralimentato e molto raro molto raro cosa vuol dire che sicuramente un mezzo a tiratura limitata o difficile da reperire questo mezzo in particolare un mezzo che è stato eliminato dalle vendite già qualche anno fa è recente in realtà perché l'anno di questo mezzo è 2015 è stato poi tolto dal mercato almeno europeo proprio per il discorso che non passava l'enorme antinquinamento e tutte queste cazzate che abbiamo qui da noi è un mezzo che ci ho messo veramente veramente tanti anni per riuscire a trovarlo perché è difficilissimo da reperire dato che le vendite all'inizio sono state pochissime per vari e ovvi motivi direi che è arrivato il momento di dare bando alle chiacchiere e alle stronzate e farvi vedere sto cazzo di mezzo bene sì ragazzi non era facilissimo indovinare anche per il perché non so perché vi siete focalizzati sulle macchine mentre io non ho mai detto che tipo di mezzo fosse poteva essere un'auto un'aereo una barca qualsiasi cosa e invece era una moto questa qui è una kawasaki h2 ninja quindi una ninja h2 la cilindrata di questa moto è 1000 ok monta un quattro cilindri in linea ma la cosa particolarissima di questa moto è proprio che è sovralimentata monta un compressore centrifugo gigantesco ok volgarmente potremmo anche chiamarlo turbo la differenza tra un compressore centrifugo e una normalissima turbina è che il compressore centrifugo ha la stessa forma del turbo ma non ha la parte calda quella dei collettori di scambio ok la moto è pazzesca non ho ancora avuto modo di provarla bene perché è una moto praticamente da collezione quindi il proprietario che ce l'aveva prima la usava veramente veramente di rado infatti abbiamo ancora gomme dell'epoca praticamente quadrate e quindi la moto è abbastanza complicata da usare con questo tipo di gomme faremo se voi volete dei contenuti come moto vlog o comunque la prova di questa moto ufficiale da mettere sul canale per il momento mi limito a mostrarvi la moto vi faccio sentire un piccolo sound check se volete e dopo di che vi faccio vedere il packaging con cui veniva consegnata la moto all'epoca che è proprio una cosa meravigliosa e dimostra che questa era una moto da collezione ok come accessori attualmente monta già il portatarga classico con le frecce questo scarico della sc project meraviglioso guardate che collettori quello è un fucking catalizzatore ok non vedo l'ora di mettere il gatto dietro ovvero il cat back il colore della moto è cromato questa è una specialissima vernice kawasaki tipo super moderna che ripara i graffi da sola è una vernice che è auto rigenerante adesso lo sto a spiegarvi questo particolare è meraviglioso poi ve lo spiegherò in un altro video adesso facciamo un piccolo sound check e dopo vi faccio vedere praticamente quella cosa che vi dicevo prima che è un praticamente un cofanetto che viene dato con la moto e vi farà godere un sacco pronti per il sound check la moto ovviamente a pochissimi chilometri guardate che strumentazione è una moto che monta una strumentazione molto semplice seppur già qualche anno fa esistevano già schermi rcd su questi modelli eccetera eccetera ma loro hanno voluto renderla proprio nuda nuda e cruda a sistema launch control sistema abs sistema per per fare le partenze lanciatissime al sistema per il controllo di trazione a un sacco un sacco di cose il cambio elettronico eccetera 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 scusate sono un po impacciato ma non sono un grande esperto di recensione di moto comunque arrivato il momento di fare il sound check che è un po' di non so se si vede qua ma c'è una coppina che dà impressione, sentite anche il rumore è totalmente tanto casino lo scarico, ma credetemi dal vivo si sente questo mi ricorda tantissimo una GTR, guardate il muso imponente e cattivissimo ora ovviamente sta piovendo quindi è il momento di metterla al riparo pensate che questa moto non ha mai preso una voce d'acqua in via sua adesso la mettiamo al coperto, vi faccio vedere il pacchetto dato con la moto ecco qua ragazzi ci siamo messi su questo speciale tovalino Heineken per farvi vedere quello che è il packaging consegnato con la moto come vedete c'è questa praticamente confezione di pelle con delle incisioni che non so se si vedono, se mette a fuoco con delle praticamente incisioni, non so come descrivervele che comunque descrivono poi il nome della moto è un disegno, sembrano canne di bambù qui c'è la targhetta col telaio della moto, duplicata, originale calamitato si apre qui sulla sinistra possiamo vedere praticamente la storia, diciamo un piccolo ringraziamento, una piccola storia di come è stata prodotta questa moto con poi anche la firma poi ecco qua completamente aperto qui abbiamo la seconda chiave, qui c'è proprio la replica della targhetta del telaio questa è una chiavetta USB con un manuale dentro, l'istruzione eccetera eccetera la seconda chiave, qui c'è il libretto praticamente dei service con la lettera, i tagliandi eccetera eccetera con tutti i lavori che sono stati fatti sulla moto, non vi annoio e poi la cosa più bella che io abbia mai visto in vita mia ovvero un libro fatto apposta per questa moto dove viene raccontata sostanzialmente devo ancora vederlo bene ma parla tantissimo poi della GPZ che è praticamente la Kawasaki Turbo la prima Kawasaki Turbo che era uscita come vedete anche perché l'H2 è stata fatta proprio in onore di questa Kawasaki poi va avanti facendo vedere tutti i vari modelli super potenti, super sportivi della Kawasaki tutto illustrato, ridegato, fantastico, bellissimo me lo leggerò un sacco prima di andare a dormire o mentre caco e dopo cominciano a praticamente rivelare nei minimi dettagli come è nata questa moto qui vedete la girante del compressore qui vedete la moto a nudo con i collettori eccetera, eccetera, eccetera questa è la moto originale dopodiché fanno vedere che hanno usato componenti aeronautici per fare la moto comunque se volete ci farò un video più specifico perché non so se vi interessa visto che questo è un canale di auto ma ora sarà anche un canale di moto dopodiché la cosa più bella che abbiamo mai visto è questa questo praticamente mini poster dove c'è tutta la gamma credo super sportiva Kawasaki perché ad esempio moto da cross non ne vedo sia stradale che da corsa vedete sembrano quei poster quelle donne nude che c'erano una volta dentro dentro i giornali non so se avete presente solo che questi sono meglio delle donne nude ogni moto ha i suoi ai suoi dati come la cilindrata la potenza praticamente scusatemi ogni moto ha i suoi dati come cilindrata potenza se ci sono particolari come ad esempio se ha vinto gare o se ha vinto qualsiasi cosa che bello ragazzi che bello che bello che bello sono emozionato fatemi sapere nei commenti se siete interessati a contenuti con con la moto perché non vedo l'ora di andarla a provare e potrei provare a fare dei motovlog o comunque farvi venire con me in viaggio con questa moto che adesso per fortuna è qui al coperto visto che piove volevo andarci a casa stasera ma molto bene ragazzi e anche per oggi guardate sul sullo sfondo una bombola di nos e delle pinze gigantesche eh for R33 project mi raccomando perché noi vogliamo frenare un palazzo non vogliamo frenare una macchina questa è la bombola di protossido che andrà sulla R33 quindi piccolo spoiler e grazie per aver seguito questo video spero che vi sia piaciuto spero che anche voi siate appassionati come me di moto vi invito a lasciare like commentare commentate ragazzi per me è importantissimo che voi commentiate con scritto bello il video fa schifo così vi posso bannare mettete like scrivetemi cosa volete cosa volete vedere per favore scommentate sotto i video perché mi piace tantissimo leggere i commenti condividetelo sui social non so se si usa più venite a seguirmi su Instagram e su Twitch perché non ho abbandonato Twitch semplicemente ho poco tempo e ho un progetto molto interessante per Twitch per cui non perdetevelo mettetemi segui anche su TikTok il nome è sempre Angelo Nero su Instagram su TikTok su YouTube su qualsiasi social persino su Clubhouse che non so se esiste ancora grazie per essere stati qui con me e ci vediamo alla prossima ciao Ciao